Era il... Oh, ciao! Io sono Clea e io sono Joem. Siamo organizzatrici professioniste. Dopo l'uscita di Get Organized su Netflix, tutto è cambiato da un giorno all'altro. Abbiamo clienti in tutto il paese, incluse alcune celebrità. Wow! Dio! Come fate a fare quello che fate? Wow! Hanno questo modo che aggiunge una magia all'intero spazio. Questo spazio è stato follemente travolgente. Benvenute nel caos! Sono tutti oggetti di scena. Insomma, è per questo che siete qui. Sfida accettata. Tutti quanti dappertutto. No, hai saltato quel verso. No, no, conosco quel verso. Oh mio Dio! Wow! Mi sono messa in gioco per cercare di partecipare a questo show, perché sentivo che lo spazio per la mia famiglia diventa sempre più piccolo. Niente per noi sarebbe più bello di restituirvi la vostra casa. Ok, non cadere. No, la pressione ha le stelle. Non siamo mai state completamente travolte da un progetto, ma c'è sempre una prima volta per tutto. Oh mio Dio, Joanna, stai bene? Cos'è successo? Sono un fallimento. Tu bevi la salsa di soia e tu mangi il sale. Hai fatto un fallimento più grande bevendo vino e champagne. Fate sul serio adesso? Questo è stupendo! È bello, è bello. E questo calma la mia ansia in un modo che non riesco a spiegare. È semplicemente... Non sto scherzando! Non sei così dolce. Oh mio Dio! Grazie! 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 Grazie!